Punto dell'insetto è andato in shock anafilattico ed è morto. Un tragico evento registrato qualche giorno fa anche a Bisenti, dove un uomo di 62 anni è stato punto da un calabrone mentre si trovava in campagna. Lo shock anafilattico è provocato da una reazione allergica significativa che tende a verificarsi, nella maggior parte dei casi, entro pochi secondi o pochi minuti dall'esposizione all'antigene scatenante. E' un effetto grave e pericoloso per la vita che può essere causato da alimenti, farmaci e come in questo caso veleno di insetti. Ma cosa fare in questi casi? Lo abbiamo chiesto al dottor Paolo Calafiore, responsabile del reparto di allergologia dell'ospedale di Giulianova. E' una condizione molto grave, purtroppo ci sono terapie che devi fare immediatamente. Il salvavita per lo shock anafilattico e l'adrenalina perché è l'unico farmaco che riesce a bloccare questa cascata e questa ingravescenza di sintomi. E' ovvio che la risposta immunologica del paziente non è sempre così, quindi non dobbiamo né spaventare gli utenti e gli ascoltatori né sottovalutare il problema. E' logico che una puntura, per esempio di menotero, che dà una reazione locale, eccetera, non può essere considerata a rischio. Questo è frequente, ce l'abbiamo un po' tutti se accade. Il problema è che è la seconda puntura di insetto che può causare lo shock. Ovviamente la prima sensibilizza, la seconda scarica, la reazione violenta. Ma quello che voglio tranquillizzare, chiaramente gli ascoltatori, che essendo una cosa non frequente di non spaventarsi, molto dipende dalla reazione, dalla prima reazione. Se è molto importante un'indagine nei centri di allergologia va fatta. Noi, per esempio, qui a Giulianova abbiamo la possibilità di diagnosticare realmente l'allergia al veleno di menotteri. Quindi, se è stata una reazione importante, anche se non gravissima, ma importante, anche solo locale, molto estesa, molto violenta, logicamente l'indagine è consigliabile. Dopodiché, a secondo del risultato e dell'entità clinica del paziente, potremmo anche decidere di fare un vaccino. Perché per gli menotteri c'è un vaccino desensibilizzante che viene somministrato. Questo vaccino addirittura viene considerato anche questo salvavita e quindi è dispensato dal Servizio Sanitario Nazionale.